Facciamo una veloce panoramica di quelle che sono le trasformazioni che possiamo eseguire sugli angoli di una forma. Cominciamo col creare una forma. Nelle ultime versioni di Illustrator è stato inserito il comodissimo widget angoli o live corners che semplicemente cliccando e trascinando questo pallino ci permette di modificare i nostri angoli fino a far diventare un quadrato, un cerchio perfetto. Questo però non è il modo più preciso di agire sugli angoli. Infatti nel momento in cui noi trasciniamo non riusciamo a dare il numero che vogliamo, un numero preciso e quindi non possiamo dare la stessa modifica a più forme. In questo caso possiamo utilizzare rettangolo con angoli arrotondati che è molto più preciso in quanto noi possiamo... qui dà anche una larghezza maggiore che a noi non interessa noi qui possiamo dargli un numero ben preciso e possiamo quindi applicarlo a più forme. Questo però diventa problematico nel momento in cui vogliamo applicarlo a una forma di tipo diverso perché converti ad angolo con angoli arrotondati trasforma qualunque forma in un quadrato o in un rettangolo con gli angoli arrotondati quindi dobbiamo agire in un altro modo. Ovviamente anche in questo caso, anche nel caso di un poligono di tipo diverso io posso andare ad usare widget angoli però quello che succede nel momento in cui io vado a usare widget angoli su una forma del genere è che mi andrà ad arrotondare anche gli angoli interni, anche angoli che io magari non voglio arrotondare per questo motivo quello che io vado a fare è che seleziono gli angoli che voglio arrotondare mi seleziono proprio tenendo premuto shift vado a selezionarli uno per uno e a questo punto qui in angoli io gli posso dare un numero e così sto arrotondando solo gli angoli che voglio addirittura io posso selezionare solo un angolo e riportarlo alla sua forma naturale esiste anche un altro modo di arrotondare gli angoli ed è quello di utilizzare stilizzazione e angoli arrotondati anche qui è possibile dare un numero preciso e questo grosso modo fa esattamente la stessa cosa del widget angoli quindi l'algoritmo è esattamente dello stesso tipo un'altra cosa che è possibile fare con gli angoli è quella di trasformare un angolo retto in una in una curva besie e questo si fa con questo convertitore che passa da punti di ancoraggio punti angolo a punti di ancoraggio morbidi così detti sarebbero le curve besie anche in questo caso se io seleziono l'intera forma l'opzione non è disponibile quindi io devo selezionare un angolo per volta fino a tre angoli io posso anche selezionarli tutti e poi deselezionarne uno funziona lo stesso a questo punto avendo un angolo selezionato io posso convertirlo in curva besie posso selezionarne un altro e convertire anche quello posso selezionarne due o tutti quanti tranne uno e funzionano nello stesso modo questo è molto comodo se voglio creare bottoni o funzioni web varie allo stesso modo io posso selezionare due punti e riportarli alla forma originale posso riportare tutti i punti che voglio da uno stato all'altro semplicemente selezionandoli uno per volta grazie Grazie a tutti